Preghiamo col Vangelo di oggi. Ciò significa, Gesù, che se anche la nostra fede fosse piccola piccola ma vera, avrebbe un'enorme potenza, visto che sarebbe capace di si radicare un albero robusto come il gelso, che ha profonde radici e cosa assurda a trapiantarlo nel mare. Che cos'è allora la fede, Signore? Tu ci insegni che la fede non è una cosa statica da possedere e tenere da parte per essere usata all'occorrenza, ma è la nostra relazione con Te, relazione di figli con il Padre, di creature che dialogano e agiscono in sintonia con il loro Dio, che le ama alla follia. E questo rapporto è già la massima ricchezza che possiamo raggiungere, è già appagante di per sé e non ha bisogno di salario. Dove potremo trovare, Signore, una pace e una felicità maggiori di quelle che raggiungiamo nel vivere in comunione con Te. Con la Tua parola e attraverso l'esempio della Tua vita sulla Terra, ci hai rivelato che la sostanza del Tuo regno è l'amore e che l'amore è tale se si fa servizio, se si fa dono per il bene della persona amata. Tutta la Tua vita sulla Terra è stato un servire a noi, fino a lavarci i piedi, fino a donare la Tua vita per la nostra salvezza. Tutto noi abbiamo ricevuto da Te, nostro Dio, e non abbiamo diritti di fronte a Te, ma nel vivere nella Tua divina volontà è nascosto il nostro vero bene. Aiutaci, Signore, ad ascoltarti, a lasciarti agire in noi secondo il Tuo amore e a cercare in questo la nostra gioia. Maria, abbiamo appena iniziato il mese di ottobre, mese del Santo Rosario. Aiutaci a dedicare tempo ogni giorno a questa preghiera, perché nel contemplare i misteri del Tuo Figlio, tutta la nostra vita e la vita delle nostre famiglie sia modellata su di Lui. Tu, che ti sei nominata la serva del Signore, prega per la nostra fede, perché animati dalla speranza cristiana, con animo umile e generoso, superiamo ogni forma di egoismo, e imitando Te, cerchiamo la gioia nell'amare Dio e nel servirlo nei nostri fratelli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Grazie 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 Grazie